Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi siamo molto contenti di presentare un saggio che è uscito da pochissimo, ma esce alla fine di questo anno che era interamente dedicato a Dante e che ancora ne parla. Il titolo è Dante, filosofia e poesia della giustizia, dalla monarchia alla commedia. Il saggio è a cura di Erminia Ardissino, è pubblicato da Mimesis Edizione ed è un volume molto interessante perché contiene una miscellanea di testi su questa tematica, filosofia e poesia della giustizia in Dante. Quindi io come mia abitudine non rubo altro tempo e lascio subito la parola alla nostra ospite che ringrazio per aver accettato il nostro invito. A lei professoressa, prego. Grazie, grazie dell'interesse per il libro e grazie dell'attenzione e del tempo che mi dedicate. Questo libro ha un'origine abbastanza lontana nel senso che si collocava all'interno di un progetto che l'Associazione degli Italianisti aveva previsto per l'anno dantesco, cioè una serie di convegni che dovevano trattare di tutte le opere di Dante e fare un po' il punto sulla situazione. A Catania si è sviluppato un convegno sulla vita nuova organizzato da Sergio Cristaldi, un insegno d'antista catanese. Io a Torino, per Torino, avevo previsto appunto di occuparmi del trattato politico del De Monarchia o Monarchia perché a Torino c'era una tradizione di studi giuridici relativi a Dante abbastanza consistente nel senso che c'erano stati studiosi nel passato da Passerenda Antrer che in realtà è forse più tra il versante politico giuridico a Ruffini che avevano dato un contributo notevole alla dantistica e attualmente anche un docente come Valerio Gigliotti che insegna storia del diritto medievale a Torino alla facoltà di giurisprudenza, diciamo, potevano dare un contributo notevole. In effetti il convegno è stato organizzato anche con la collaborazione di Valerio Gigliotti che poi, diciamo, negli atti ha dato il suo saggio bellissimo, misericordia e giustizia, ma non ha potuto contribuire all'organizzazione della miscellanea che porta invece solo il mio nome. Quindi è il frutto di una lunga gestazione e anche di una serie di collaborazioni, direi, prestigiose perché tra gli autori sono presenti figure della dantistica italiana ma anche della dantistica internazionale come Paola Nasti o Alessandro Vettori che insegnano negli Stati Uniti. Tra gli italiani abbiamo Sergio Cristaldi per l'appunto, ma oltre ai dantisti sono presenti in questo volume anche studiosi del diritto come appunto Valerio Gigliotti e Paolo Eritier e studiosi della filosofia perché sostanzialmente la ragione, diciamo, dell'indagine era soprattutto questo spirito delle leggi ma anche del pensiero di Dante relativo e come questo pensiero si trasferisce poi in poesia. Per cui abbiamo saggi da Enrico Guglielminetti e Pasquale Porro, due filosofi a cui, scusate, al volume contribuisce poi anche una figura come quella di Matteo Di Giovanni che studia invece il rapporto fra l'averroismo e il pensiero politico di Dante da studioso della filosofia medievale, filosofia arabe medievale. Dicendo questi nomi ho dimenticato quello di Raffaele Pinto che è uno dei dantisti più attivi in segna Barcellona e effettivamente lui ha studiato il concetto della giustizia dal punto di vista invece economico cioè come l'avarizia sia un vizio che nega un peccato che nega, secondo Dante, appunto la possibilità della giustizia. E poi, diciamo, una parte di questo convegno è stata dedicata anche alla fortuna del De Monarchia nell'età umanistico rinascimentale da parte di Simona Iaria e poi nel Novecento con lo studio di Cristaldi relativo alla discussione sulla questione di Etienne Gilson e Nardi. Ora, il volume quindi mette in luce quelle che sono le competenze anche giuridiche di Dante cioè il poe Dante aveva una cultura giuridica notevole che forse si era acquisito appunto attraverso l'esperienza politica non pensiamo una vera e propria preparazione in uno studio ma insomma certamente aveva competenza e il problema gli stava molto a cuore. Infatti nel De Monarchia affronta proprio tematiche specifiche di pertinenza giuridica e tutto questo si riallaccia strettamente con la sua poesia, cioè il problema della giustizia è un problema fondamentale cioè se pensiamo tutto alla Divina Commedia è un tribunale, no? È un tribunale diviso, cioè in cui diciamo si ascoltano i peccatori, si ascoltano le varie voci ecco però anche se la decisione è già stata presa ma attraverso questo ascolto e questi dialoghi si intravede proprio l'argomentazione relativa alla scelta. Quindi la Commedia appare al lettore appunto come un grande tribunale della storia in cui il giudizio dell'azione dei personaggi è ridiscusso e drammatizzato e sforcia talvolta ad includere questioni veramente di pertinenza stretta della scienza iuris. E poi sappiamo che Dante aveva anche un grande interesse per questo problema che intendeva sviluppare nel convivio, in un trattato, in un libro che poi non ha mai scritto anche perché poi si trasferisce, si può dire, nel poema. Cioè i problemi che lui affronta nel convivio vengono poi a maturazione nel poema. E la questione della giustizia è una questione fondamentale perché su di essa si rispecchia l'immagine di Dio cioè è una questione anche fondamentalmente teologica. Io in particolare, adesso non voglio focalizzare l'attenzione su di me ma ne parlo perché mi sembra che sia importante cioè i canti del cielo della giustizia del paradiso sono veramente dei canti straordinari in cui si vede anche la prospettiva aperta e nuova e moderna di Dante cioè il problema di Dante che si pone in questi canti e che lui chiama un digiunco tanto vecchio quindi vuol dire due volte lo chiama digiuno cioè un problema che lui ha sentito per tantissimi anni è quello appunto della giustizia divina che condanna le persone che non hanno potuto conoscere Cristo o la predicazione di Cristo che non hanno potuto avere il battesimo non per loro volontà ma per distanza di tempo o di spazio nel senso che magari sono vissuti in epoche in cui tipo i troiani insomma prima di Cristo oppure in zone in cui la predicazione di Cristo non sono state raggiunte dalle predicazioni di Cristo quindi questo problema che lui discute e su cui il dogma di matrice agostiniana è molto preciso diciamo trova una soluzione in questi canti del tutto inaspettata perché non è una soluzione dogmatica cioè Dante non si pronuncia sul dogma che lui accetta perfettamente ma mette in paradiso due diciamo così infedele pagani cioè Traiano e Rifeo Troiano cioè Rifeo è vissuto figlio di Priamo quindi è vissuto mille anni prima di Cristo e Traiano è vissuto dopo Cristo ma di Cristo non ha sentito parlare allora tutti e due perché stanno in paradiso stanno in paradiso perché sono stati giusti cioè la giustizia è stata la motivazione della loro vita della loro azione, le loro scelte Rifeo è magari un personaggio di pura invenzione poetica Virgilio però lo definisce giustissimus quindi attribuendo questo si parlativo Dante lo prende e lo pone nel cielo dei giusti proprio perché ha potuto accedere a questa conoscenza divina attraverso la virtù della giustizia che lui ha coltivato in tutta la sua vita e di Traiano ancor più perché Traiano è presente in Purgatorio in quella storia, quella dell'aneddoto che lui fa giustizia alla vedovella a cui avevano ucciso il figlio rinuncia addirittura cioè rimanda la partenza per la guerra pur di far la giustizia e questo è per Dante una testimonianza insomma di questo amore per la giustizia che è amore per una virtù divina una qualità divina quindi Dio è giusto e dunque queste persone si rivelano capaci di conoscere profondamente Dio magari non nella sua rivelazione poi Dante inventa anche il modo di far sì che loro siano stati battezzati uno per una diciamo essere ritornato in vita l'altro perché le virtù gli sono state a fianco insomma li fur per battesmo ecco cioè trova Dante da poeta una soluzione poetica per un problema che dogmaticamente non si sarebbe risolto così e quindi questo è un esempio insomma della centralità di questo problema per il poema di Dante oggi esistono anche degli studi molto mirati su questa problematica l'americano Justin Steinberg ha pubblicato un libro su Dante e i limiti della giustizia che poi i confini del diritto questo è il titolo italiano e Claudia Di Fonzo ha ancora più studiato Dante e la tradizione giuridica e le stesse edizioni della Divina della scusate del De Monarchia del Trattato Politico hanno dell'intro sia quella di Diego Quaglioni sia quella di Paolo Chiese e Andrea Tabarone hanno delle corpose introduzioni che affrontano il problema in modo ampio e documentato ecco mostrando appunto quanto sia la competenza giuridica di Dante e come questo problema animi il suo pensiero e quindi anche la sua poesia Io qui ho una domanda secondo lei questo avviene perché Dante si sente perseguitato dalla giustizia e quindi ribadisce la necessità di una giustizia giusta? Allora ottima domanda problematica però rispondere non è del tutto facile allora io la metterei così cioè questo è il mio pensiero Dante sicuramente si muove ma lo dice lui stesso insomma nelle lette insomma si muove proprio per rispondere in gran parte a questa accuse a questo ingiusto valutazione di tutto il suo operato politico è una condanna pesante pesantissima per lui per la famiglia per i figli però diciamo che all'altezza della Divina Commedia questo problema il problema personale è decantato cioè non che sia dimenticato però non c'è la diretta conseguenza tranne insomma quando parliamo proprio dei fiorentini di Firenze allora le invettive insomma lui si può pronunciare in questi modi però diciamo quello per esempio di cui ho parlato io della questione della giustizia divina ha più una radice biblica cioè lui ormai si è spostato dal suo problema personale a un problema veramente teologico e affronta la questione appunto come diciamo da credente da fedele che vuole da poeta sottolineo da poeta che vuole fare della sua poesia un servizio all'umanità lui dice nella lettera che ormai insomma si si sta stabilito che è sua e si dice appunto che lui vuole guidare l'umanità alla felicità terrena e celeste la felicità terrena è quella politica è quella che si crea con un buon governo della famiglia della città dello stato dell'impero quindi questa visione diciamo che parte dal minimo arriva all'universale e tutto deve essere strutturato e tutto deve essere calibrato e poi la felicità dell'altra vita la felicità che può dare la rivelazione con la risurrezione insomma dai morti e quindi la felicità della conoscenza di Dio l'accesso alla conoscenza di Dio è garanzia della felicità eterna non solo ma Dante si rivela anche capace di pensare profondamente all'essere umano cioè c'è un verso del paradiso proprio questo del cielo dei giusti in cui parla dell'essere umano che diviene ciò che è cioè ciascuna cosa lui dice quale lei diventa ciascuna cosa quale lei diventa siamo nel ventesimo canto cioè l'essere umano è creato da Dio con delle caratteristiche poi scende nella vita si incontra con problemi peccato eccetera e se segue il suo percorso il suo istinto proprio l'istinto è quello di condurlo a valorizzare queste qualità che Dio gli ha dato cioè quindi ciascuno per questo che Rifeo è salvo perché ha coltivato la giustizia che Dio ha messo nel suo cuore per questo Traiano è salvo perché ha coltivato cioè non ha conosciuto Cristo ma ha coltivato la giustizia che Dio gli ha messo in cuore e quindi in questo modo ha conosciuto Dio ha avuto accesso alla salvezza ecco questo il poema è una guida a riconoscere appunto queste infinite possibilità che gli esseri umani hanno di raggiungere la loro perfezione e la loro perfezione quindi in questo anche questa disposizione giusta che Dio ha dato al creato al mondo e anche questa è una delle tante particolarità di Dante che lo rendono così attuale no? perché diciamo che la questione giustizia è uno dei problemi che attanaglia anche la nostra società moderna certo certo no ma sì a lei ha detto benissimo cioè quello che Dante è moderno perché va alla radice dell'essere umano ahimè l'essere umano è sempre l'essere umano da Platone oggi cioè i problemi sono più o meno gli stessi non è radicalmente cambiato viviamo in condizioni completamente diverse però siamo di una pasta così che si riconosce quasi identica o direi identica in tutte le epoche e Dante ragionando proprio sull'essere umano riesce a dare delle prospettive che possono avere una declinazione assolutamente attuale adesso io non voglio deviare il discorso però mi fa piacere parlare che a Torino oltre a questo convegno sulla giustizia io ho organizzato altri due convegni uno sull'educazione cioè Dante i giovani come Dante stimoli anche un approccio educativo anche piacevole basti pensare all'uso dei fumetti o alla passione che hanno i bambini per i versi di Dante ma la cosa più sorprendente è che abbiamo fatto un un convegno su Dante e l'ecologia cioè dall'inferno di Dante scusate dal paradiso di Dante all'inferno ecologico perché c'è un poeta australiano che è attivista ecologista anche molto bravo un poeta molto riconosciuto nel mondo anglosassone tradotto in tante lingue anche in Italia John Kinsella che ha diciamo scritto una poema una serie di canti intitolato Divine Comedy Journey to Original Geography cioè una divina commedia in funzione ecologica quindi il poema in realtà non era proprio su Dante era su John Kinsella ma John Kinsella dice io da Dante ricavo la forza delle mie parole lo dice lui la mia consapevolezza la forza delle mie parole e c'è un'affinità profonda fra la divina commedia e questa Divine Comedy australiana ecco non voglio non volevo però deviare il discorso ma è interessante però è interessante perché ti dimostra cioè è così io ho la sperimentazione annuale faccio un corso su Dante e trovo una reazione degli studenti appassionata sempre appassionata non c'è altrettanta passione per non so quando faccio i poeti del novecento per esempio e quindi cioè gli studenti mi dimostrano che che Dante continua a parlare proprio anche ai giovani perché perché parla all'essere umano perché gli dà soprattutto ha una visione dinamica dell'essere umano una visione diciamo così in cui non esiste lo statu quo ecco cioè si è sempre all'interno di un'evoluzione di un cambiamento poi uno può scegliere il male può scegliere il bene però Dante indirizza verso il bene proprio attraverso questi suoi processi alle azioni umane ti giudica e ti dice guarda che non deve andare in quella direzione ma deve andare in quest'altra se vuoi la felicità meraviglioso quindi bisogna assolutamente correre in libreria perché sì sì e leggere Dante e leggere Dante a scuola leggere Dante a scuola sì ma in questo momento correre ad acquistare il saggio che lei ha curato e che abbiamo presentato in questa nostra chiacchierata quindi ricordo il titolo Dante filosofia e poesia della giustizia dalla monarchia alla commedia e la curatrice Erminia Ardissino che abbiamo avuto il piacere di avere nostra ospite l'editore Mimesis 272 pagine per 22 euro quindi neanche una grossa cifra per scoprire una miscellanea che ci mostra questo personaggio che tutti conoscono ma mai abbastanza in maniera veramente a tutto tondo io la ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito e avercene parlato e spero di avere altre occasioni per collaborare con lei e quindi grazie ancora grazie a voi e grazie agli ascoltatori grazie a voi grazie a voi